Signor Renfield, benvenuto. Io sono Dracula. Voi sarete un ottimo assistente. No, lui è il male. Noi ti proteggeremo. Hai la parola dell'istituzione più affidabile della Terra, la Chiesa Cattolica. Renfield, il tuo unico scopo nella vita è servirmi. Ora, mangiamo. Voglio di nuovo una vita normale. Lugia a terra! No, 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 no. Dio la benedica, signor Renfield. Dio benedica voi, sorelle. È un eroe. Robert Montague Renfield. Lascia che ti spieghi. Lavoro per Dracula. Il conte Dracula? È il vero Dracula! Cazzo! Alcuni mi chiamano lo scuro. Altri... Il signore della morte. Gli procuri gente da mangiare. Faccio anche altre cose. Di che tipo? Gli lavi il mantello? No, quello si lava esclusivamente a secco. Vorrei indossarlo. È roba da sballo. Non sei un cattivo ragazzo. Finché non lo affronti non sarai mai libero. Non intendo più tollerare abusi. Merito di essere felice. Ti spiego una cosa, ok? Tu meriti solo di soffrire. Scatenerò un esercito della morte. Tutti quelli a cui vuoi bene soffriranno. Perché tu mi hai tradito. Dobbiamo fermarlo prima del tramonto. Io sono abbastanza. Mi merito di essere felice. E riprendo il pieno controllo del... È mia vita oggi! Sai quando succede una cosa tremenda e uno dice, tranquillo, ho visto di peggio? Quello che ti ho visto fare oggi sarà il mio visto di peggio. È la parte che preferisco meno.